Non si sa se siamo stati noi a salvare Luca Vettori dalla folla oppure lui a salvare noi dall'essere travolti oramai per intervistare la fine partita sembra di dover intervistare un idolo delle folle questo sei, dopo oggi lo sarai ancora di più perché la partita l'hai chiusa tu un ace della Madonna, lo diciamo Siete voi le mie salvatrici, sì è stata una bellissima partita proprio da giocare tanti ritmi, tanti livelli, tante prestazioni sia loro che nostre però alla fine c'era sempre un pizzico d'orgoglio probabilmente che volevamo dimostrare tra le parti e la partita non contava troppo però è stata veramente bella da giocare forse proprio per questo motivo che non era così importante La tua partita è stata altalenante Ogni tanto si sono calato e non è stato semplicissimo anche da parte mia essere sempre al top economicamente e per cui non ho bisogno di farlo La mia forza è stata quella di non demoralizzarmi quando magari facciamo in passato invece essere tenace e arrivarti in fondo con la vittoria E adesso il pian pianino, un partita dopo l'altra sarà l'inizio di campionato in alto però tante date e speriamo di vivere queste emozioni Eh, con Macerata qua il discorso andrà mai diverso gennaio, quindi... No, beh, sì, con noi e loro, sì, però adesso viviamo, dai e saranno sicuramente altre parti decisive e speriamo di educarle per le cose Grazie, Luca, che ha già visto cinque Grazie